Ciao a tutti amici, sono Gabriella Giordano, vi chiamo da Limone Piemonte, non dal Polo Nord, ma qui devo dire che più o meno la temperatura è simile e come potete vedere sta nevicando abbondantemente. Ho voluto mandarvi questo saluto da qui perché è uno dei posti che io amo di più, in questo momento di restrizioni io mi trovavo qua, visto che passo normalmente l'inverno perché amo molto sciare la montagna e quindi qui sono rimasta. Ho lasciato accese le luci che circondano il mio terrazzo perché ho voluto lasciarle in segno della mia presenza qui e per ricordare agli amici di Limone che non sono scappata via, che ci sono e come mi sono stati regalati tanti bei giorni durante questa stagione invernale che si è comunque conclusa molto bruscamente, io volevo passare anche qui dei giorni magari più difficili, più complicati come per tutti noi. Vi mando un saluto affettosissimo, mi auguro che queste lucine siano come tante candeline accese che vi portino tanto bene, tanta fortuna e soprattutto diamo una mano veramente a questi medici meravigliosi e atteniamoci alle regole e vedrete che ne usciremo fuori. Un abbraccio a tutti, ciao ciao ciao!